ciao a tutti da monica bentornati nel canale di glitters and soul questo è un get ready with me il primo per me allora vi dico già che ho preparato già la mia la mia base e vi mostro i prodotti che ho usato per prepararla allora per prima cosa io ultimamente stavo utilizzando il primer della kiko con cui mi trovo benissimo magari ve lo mostrerò in un altro video e quello della limited edition cecilia note la cecilia note è una edizione che è uscita quest'estate e io ho comperato soltanto il primer perché ne avevo sentito parlare bene e mi è piaciuto molto però adesso è molto luminoso come primer adesso però ho trovato un primer in siero che voglio provare e che ho provato appunto per fare questa base e l'ho trovato da dm è questo allora innanzitutto questo è il primer vediamo se riesco a farvi vedere bene perché qui non so se si mette a fuoco è di al verde e questo questo marchio al verde è il marchio di dm non so se avete dei negozi dm nelle vicinanze vi consiglio di andare a vedere perché hanno delle cose veramente veramente carine costano pochissimo ed è una linea bio quindi con prodotti naturali questo in particolare contiene adesso ve lo dico contiene o estratto di foglie di aloe vera e estratto di calendula oltre a una serie di altre sostanze naturali è in siero è un po oleoso però devo dire che si stende benissimo e avevo paura di restare un po unta invece no fa il suo bel lavoro omogeneizza la grana della pelle e si assorbe bene subito dopo ho applicato il fondo sto usando questo insta perfect di essence allora io avrei voluto prenderlo nella colorazione numero 50 ma era finito e quindi ho preso il 40 avevo paura che fosse un po troppo chiaro per me però devo dire che in effetti forse va bene perché forse un pochino un pochino si ossida quindi tende a scurirsi ne ho sentito parlare bene di questo fondo mi sembra da milk coffee 1973 vi lascio nell'info box il link al suo canale e dopo di che sono andato a pacificare il tutto con un altro prodotto di al verde e questa l'ho sentita da un'altra youtuber che seguo e che seguo anche su instagram e che è patrizia mandorla e cioccolata mineral banana baking powder di al verde sempre che è appunto questo marchio di dei negozi di m è una cipra minerale è bellissima non è bianca c'è anche la versione completamente bianca questa qui è un po giallina ma vi assicuro che non vi fa giallo in faccia è neutra e ha opacizzato benissimo mi piace perché è impalpabile sembra proprio botalco quindi non va a entrare insomma nelle rughe evidenziandole perché insomma la mia età ci sono però magari se non le evidenziamo è meglio ok dopodiché io ho le occhiaie scure e quindi sto usando ancora questo questo prodotto che è l'erase past di della benefit che adesso non fanno più scusate io non riesco a mettere a fuoco se voi siete più bravi di me insegnatemi come fare ed è il numero 3 la più scuro diciamo di tutti vediamo se riesco facendo così no ok non importa va bene comunque fidatevi è il più scuro perché voi dovete sapere non so se lo sapete già ma quando le occhiaie tendono al blu viola bisogna utilizzare il colore complementare per neutralizzarle no questo è un aranciato quindi l'arancione essendo il colore complementare del blu va abbastanza a spegnerle e spegne diciamo che questo qui abbastanza pastoso quindi io ne metto poco lo picchietto bene e poi però sopra picchietto anche un po di questo fondotinta di neve cosmetics che sembra quasi un correttore che è più chiaro e questo lo uso anche per qualche piccola macchia perfezione insomma per dare un finish a tutto ovviamente adesso ho fatto confusione perché come sempre ovviamente la cipria la making banana powder la metto alla fine di tutto questo è l'ultimo prodotto che metto dopodiché ho sistemato le sopracciglia tasto dolente per me perché io con le sopracciglia ragazzi sono un disastro allora innanzitutto in un occhio qui sono più rade quindi ho proprio dei buchi mancano qui sono più piene qui l'arcata è molto più pronunciata qui siccome ho la palpebra in quest'occhio che tende a cadere ovviamente tutta la parte del viso tende a cadere e anche la sopracciglia più bassa quindi devo sempre stare lì a riequilibrarle non sono bravissima a fare questo devo dire che finora utilizzavo questa matita di oddio adesso non ricordo dov'è che l'ho comprata scusate che leggo questa qui mi ricordo più sa di chico ah no scusate della sien l'ho presa alla lidl ecco qui ed è eyebrow styler che ha questo pennellino diciamo questo spazzolino che va un po a sistemare a pettinarle e poi è molto cremosa stendibile molto facilmente e quindi io vado bene vi faccio uno swatch per farvi capire perché non si vede niente ecco non è che si vede moltissimo neanche lo stesso comunque ha questa colorazione qui e io usavo questa però da l'altro giorno ieri mi pare che mia figlia si è comprata questo sempre dal verde sempre negozi dm ho voluto provare questo qui è un mascara per sopracciglia allora il colore sarebbe un po scuretto per me però ne ho messo appena appena e va proprio a enfatizzare i peli già esistenti colorando un po anche lì dove peli non ci sono e di bello ha che ha questo pettine pennellino scovolino che ho utilizzato per per pettinare prima diciamo le sopracciglia eccole qua eccolo qua vedete da questo lato pettinino da questo lato spazzolino le ho pettinate le ho passate con questo mascara e solo dopo sono andata a riempire i vuoti con questo devo dire che sono soddisfatta ok ora che vi ho fatto vedere come ho fatto la base comincio con il trucco occhi utilizzerò oggi questa palette bellissima della urban decay che ho comprato un anno fa è la naked heat ve la faccio vedere è bellissima allora si apre così questo poi è fatta così propria scatolina ed eccola qui io ho sempre adorato le naked questa qui l'ho comprata l'anno scorso era in promozione se la si comprava dal sito di sephora e ecco qui colori allora il suo specchio e ha questi colori meravigliosi non so se li vedete sono bellissimi sono iper 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 pigmentati colorati molto belli allora voglio realizzare un make up di tipo autunnale scuretto però ad applicare nella parte diciamo della piega dell'occhio questo colore qui della palette quindi il penultimo che vedete è piuttosto scuro utilizzerò uno specchietto perché altrimenti mi è impossibile riuscire a truccarmi guardandomi sul telefono allora ne prendo un pochino con questo pennello io uso questo pennello che è un pennello di un di un set di cui non mi ricordo il nome l'ho anche cercato su internet perché ve lo volevo dire ma non l'ho trovato è un set della zoeva che ho comperato da una ragazza a cui era stato regalato e a lei non piaceva e me l'ha dato per 10 euro ma era un set bello costoso e mi vado ad applicarlo con questo pennello qui soffio via l'eccesso e comincio a stenderlo nella parte della piega dell'occhio vedete e anche un pochino nella piega dove vado a formare una specie di triangolino io spero che voi vediate bene perché questo è la prima volta allora questo video get ready with me sera per me un banco di prova nel senso che capirò dove sbaglio qualcosa e cercherò di metti mediare la volta prossima lo applico anche dall'altra parte soffri sempre via l'eccesso perché sono colori veramente veramente molto molto pigmentati ecco qui anche qui vado nell'angolo e cerco di portare un po' in dentro il colore una volta fatto questo sfumo sfumo più possibile sfumo sfumo faccio questi movimenti avanti indietro e circolari per sfumare più possibile il colore ecco qui adesso sempre dalla stessa palette vado a stendere un colore nella nella palpebra mobile un po più un po più chiaro e un pochino leggermente shimmer e scelgo questo colore qui questo colore qui che ora vi dico subito anche il nome che così poi lo riconoscete nella palette se per caso ce l'avete è dirty talk allora lo stendo io vado bene a stenderlo con le dita di solito i colori nella parte diciamo della palpebra mobile preferisco stenderli con le dita quindi lo stendo non vado non vado proprio nella parte interna interna lo stendo qui e cerco di congiungerlo con l'altro colore che applicato prima quindi mi fermo a un certo punto mi fermo a questa altezza del dell'occhio vado a farlo anche dall'altra parte ecco qui anche qui mi fermo prima poco prima dell'angolo interno diciamo dell'occhio e poi con un pennello da sfumatura uso questo pennello che non so neanche che pennello sia perché ce la da una vita vado a congiungere le due parti cerco di sfumare la parte sotto nella parte sopra di farle congiungere una con l'altra e sfumo il più possibile adesso con un pennello penna sono questi pennelli con la punta stretta prendo un colore ancora più scuro dalla palette anzi no prendo il colore di prima il colore che ho usato prima questo qui però non lo soffio via lo tengo bello intenso e lo passo proprio qui vedete dove c'è diciamo dove si va a formare normalmente la vite da intensità all'occhio ecco qua sia da una parte ovviamente che dall'altra vado proprio a scurire la parte della piega e creo proprio il triangolo questa cosa qui ho notato che mi aiuta a tenere l'occhio a dare come un allungamento dell'occhio io avrei gli occhi che tendono un po a scendere quindi è importante per me fare questo giochettino vado a sfumare da una parte anche dall'altra ok adesso ho un bellissimo shadow della pupa è questo qui che è il numero 2 di questa collezione che non ricordo come si chiama l'ho comprata l'anno scorso a natale era uscita in occasione del natale e praticamente con un pennello abbastanza piatto tipo questo ne preleva un pochino in questo colore e lo vado a mettere nell'angolo interno dove avevo lasciato appunto lo spazio libero uno spazio vuoto vedete molto shimmer molto luminoso si abbina benissimo secondo me con gli altri due colori e lo sfumo verso l'interno spero che si veda bene faccio vedere l'altra parte scusate questi rumori molesti ho battuto sugli occhiali ecco qui cerco di sfumare il più possibile spero che si veda bene che la luce sia adeguata che vi faccia rendere conto insomma dell'effetto ok adesso vado ad illuminare un pochino sotto la parte sotto alle sopracciglie per farlo utilizzo una una matita color burro che ho comprato da primark non so se qualcuno di voi è stato da primark io adoro quel negozio lì l'unico problema è che io e mia figlia quando ci andiamo ci stiamo dentro tipo d'ora e mezza e questa matita qui è molto è color burro ed è anche molto burrosa nel senso che è molto molto tenera e mi piace molto l'effetto che dà perché non è bianca bianca quindi non va a creare un contrasto troppo grande però va ad illuminare un pochino diciamo la parte sotto le sopracciglia che dovrebbe essere sempre un pochino più illuminata rispetto al resto dell'occhio quindi l'applico così e poi la vado a sfumare con le dita di modo che non si veda troppo lo stacco netto insomma con con il resto del trucco io la applico sempre anche qua sotto perché così dà un effetto molto più netto al alla vi che abbiamo disegnato con l'ombretto non so se vedete ma da un effetto molto molto più definito mi piace proprio anche perché io qui ai lati dell'occhio non so perché ho spesso dei rossori delle parti un po più scure e quindi ben venga questa matita qui va ad illuminare il tutto sfumo bene applico anche qui dentro un piccolo tocco di questa mattita chiara che va a contribuire ad illuminare diciamo la parte la parte lì dell'occhio la parte interna dell'occhio ok adesso passiamo alla matita allora la matita occhi io utilizzo una matita che è una matita nera ed è una matita di di essence questa qui adesso non ridete però la vedete perché uso un mozzicone di matita è semplice perché questa matita qui io da essence non l'ho più trovata penso che siano due anni che ce l'ho non ho non ho più il nome perché il nome era all'inizio ma l'ho temperata non so che matita sia e io finora ho provato tantissime matti ho provato a comprare anche una pastello occhi di neve cosmetics sono prodotti con i quali mi trovo benissimo nera però non mi trovo bene nel senso che è troppo tenera e cola altre sono non colano ma sono troppo dure non riesco a metterle ad applicarle questa qui era l'ideale solo che ho paura che tra un pochino dovrò rassegnarmi a a cercarne un'altra vado ad applicarla ovviamente non riesco a farvelo in diretta perché io la applico a parte sotto ma all'interno nella rima interna superiore dell'occhio loro bisogna un attimo di tirare sulla palla per utilizzare lo specchietto per cui ci vediamo tra un attimino eccomi tornata ecco qui ho applicato la matita quindi nera nella rima inferiore dell'occhio e all'interno della rima superiore a me piace di più così non mi piace metterla fuori perché mi dà l'idea che mi rimpicciolisca l'occhio e me lo appesantisca invece così fa risaltare di più il colore dei miei occhi e adesso vado di mascara io ho questo della kiko questo qui si chiama unforgettable waterproof mascara questo è veramente waterproof l'ho provato eccolo qui questo è lo scovolino e l'ho comperato di recente perché alla kiko il mese scorso avevano messo tutti i mascara scontati mi pare a metà prezzo se non sbaglio lo vado ad applicare sempre con il specchietto e ne applico abbastanza perché a me piace che lo sguardo sia bello intenso che le ciglia sembrano sembrino più lunghe ecco qua io faccio questo movimento a parte che è incurvato lo scovolino di questo mascara quindi si va benissimo le apre un pochino e cerco di tirarle sempre un po di lato non occorre neanche metterne chissà quanto perché veramente con uno scovolino intinto una sola volta riesco a fare entrambi gli occhi ecco qui anche qui tendo a tirarlo un po dalla parte esterna perché mi dà l'idea capra di più l'occhio ok direi che può andare qui e adesso vado a fare un pochino di contouring allora per il contouring io uso vari prodotti a seconda di a seconda delle volte allora adesso sto utilizzando un duo di neve cosmetics quindi polvere minerale e praticamente è proprio il duo che loro hanno creato per il contouring c'è la parte scura opaca e c'è la parte shimmer illuminante la parte scura è veramente veramente tanto scura quindi io ne metto un pochino qui nel coperchio faccio scendere un pochino e utilizzo per fare contouring la parte scura utilizzo questo pennello qui che è sempre del set della zoeva lo picchietto appena appena e lo soffio perché altrimenti viene una macchia infinita quindi levo l'eccesso e inizio ad applicarlo qui facendo questo movimento qui nella parte sotto gli zigomi i movimenti che faccio sono sempre verso l'alto non bisogna mai mai mettere l'ombreggiatura e scendere giù perché altrimenti non si ottiene l'effetto che si vuole quindi lo applico così poi prendo un pennello da sfumatura e lo sfumo tirandolo verso l'alto e lo porto anche qui vicino alle tempie sulle tempie diciamo ecco qui vado a fare la stessa cosa dall'altra parte anche qui lo porto verso l'alto in modo che vada proprio come a sostenere lo zigomo perché poi con il discorso del chiaroscuro cos'è che vogliamo fare vogliamo mettere in evidenza gli zigomi e conturing può essere usato come sapete per correggere i difetti però in questo caso qui è proprio un discorso di scolpire il viso e anche qui vado a sfumare un pochino con questo pennello che è molto morbido questo pennello di zoeva ci trovo molto bene veramente piace un sacco questo trucco così e adesso ci metto la parte diciamo illuminante quella la metto con le dita io l'illuminante preferisco metterlo con le dita siccome è già molto qui nel coperchio non ne aggiungo perché è veramente veramente shimmer tanto anche questo ne prendo giusto così una punta sul dito e lo metto allora devo stare attenta perché io qui ho delle rughette se avete delle rughette la polvere shimmer entra dentro alle rughette e ve le mette in evidenza io cerco di starci sotto quindi vado giusto qui e faccio questo movimento qui metto ancora un pochino di modo che vado proprio ad illuminare ma senza mettere in evidenza le rughe prendo ancora lo metto dall'altra parte ecco qui vedete l'effetto bello luminoso adesso completo con un po di blush utilizzo questo blush che ormai è stra vecchio finito quasi al mosaic blush della essence eccolo qui e il numero mamma mia sono cieca il numero 40 si avevo visto giusto ma non volevo dire una cosa per un altro utilizzo questo pennellino che io lo utilizzo per il blush mi piace di essence anche questo faccio così soffio l'eccesso sorrido e lo metto solo qui nei pomelli rossi cioè nei bomelli per farli diventare rossi scusate ecco qui così appena appena lo stelo sfumo stendendolo velocemente di lato ok adesso voglio provare un rossetto che ho comprato ieri e che non ho ancora provato allora è il rossetto che è abbinato ad uno smalto in una delle ultime collezioni di essence quella autunnale ci sono una gamma di smalti e una gamma di rossetti che sono abbinati tra loro allora io avevo comprato questo smalto non quello chiaro questo qui più scuro vedete e mancava quel giorno il suo rossetto abbinato è molto scuro ok lo so però volevo provare ad utilizzarlo e ci ho abbinato quindi una matita scura che ho ritrovato dopo tempo non spero neanche di averla perché oggi ho fatto un po di decluttering e ho trovato questa matita di neve cosmetic e si chiama dicevamo terra quindi è proprio scura ma ovviamente si deve abbinare a questo rossetto che come voi vedete è molto molto scuro questo qui è il numero 07 vediamo se leggo la collezione qual è è this is me di essence allora prima vado ad applicare la matita perché devo prima fare un bel contorno delle labbra altrimenti non viene fuori bene quindi vado ad applicare la matita devo dire che anche se scura è molto morbida mi piace il modo in cui si stende non tutte le matite per le labbra sono così morbide io con neve cosmetics mi trovo davvero bene ecco qua la porta anche un po all'interno sia sopra che sotto la sfumo e ora vado ad applicare questo questo meraviglioso rossetto scuro autunnale proprio lo stendo un po col dito io rossetti vado sempre poi a distribuirli bene con le dita spettacolo ci metto una punta di scusate ci metto una punta di cocorice della linea hello body che è un gloss sostanzialmente un gloss nutriente per le labbra ne applico un pochino perché a me non non fanno impazzire i rossetti quando sono matta su di me su altre stanno benissimo però su di me non tanto preferisco vedermi sempre un po lucida ecco fatto ecco qui questo è il makeup finito spero che vi piaccia che vi sia piaciuto ora sciolgo i capelli per vedere come viene fuori il look finale ecco qua se il video vi è piaciuto vi chiedo come sempre un like vi chiedo di iscrivervi al canale attivate la campanellina perché sono in arrivo tantissimi video mi sono scritte su un quaderno un sacco di idee che mi frullano ho in arrivo devo ancora farlo ma ho in testa un video sulla skin che è routine della di ordinary perché è una cosa bellissima che vi devo dire su questa azienda che secondo me merita tantissimo seguitemi se volete anche su instagram sono sempre glitters and soul e vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto ciao ciao da monica ciao